Sicuramente l'emozione è grande, con i nuovi servizi che poi stiamo proponendo ai nostri clienti abbiamo fatto un sistema a 360 gradi nel settore camper, con nuovo forno di verniciatura, con un nuovo market, con nuovi prodotti e molti se non tutti i servizi per quelli che sono tutti i servizi del camperista. Nuovo forno di carrozzeria da 10 metri per 5, abbiamo una convenzione con Vittoria Assicurazione, con Allianz, piuttosto che con tutte le assicurazioni possiamo intervenire su tutti quelli che sono i lavori di carrozzeria su camper e auto, prestati operativi in tutti quelli che sono i servizi soprattutto di meccanica anche per mezzi di disabili, ambulanze o quant'altro. Abbiamo un macchinario che igienizza ogni veicolo all'entrata e all'uscita prima della consegna. Siamo molto felici di come siamo cresciuti, la richiesta si è differenziata nel frattempo, abbiamo aperto i nuovi settori come quello della carrozzeria di cui parlavate, siamo molto contenti di come siamo cresciuti in questi due anni, ci siamo nel frattempo differenziati in base alla richiesta dei nostri clienti, dei nuovi clienti che fortunatamente abbiamo acquisito, nel frattempo abbiamo aperto aree e sezioni diciamo differenziandoci anche nella lavorazione del camper come la carrozzeria di cui parlavate con Matteo, siamo diventati subagenzia per quanto riguarda anche le assicurazioni e il discorso assicurativo, abbiamo rinnovato la parte del nostro market con delle linee differenti e molto più eleganti per poter insomma proporre anche qualcosa di nuovo e di diverso nella nostra azienda. Il nostro sito è internet www.camperlegnano.it, tranquillamente potete chiedere informazioni via telefono, quindi al nostro numero fisso 0331 54 0313 e abbiamo anche il numero whatsapp 351 86 80 430, noi ci troviamo a Legnano in via del Brugo 5, vi aspettiamo numerosi! Grazie! Grazie!